e per tutti voi ragazzi ragazzi sono il vostro caro mastro king e benvenuti in questo nuovissimo video della stone block allora dall'ultimo episodio sono successo un pochino di cose cercare un pochino di apagherare un po' le cose infatti ora ho Plutentium Furnace che cercherò di portare al massimo ma non è questa la cosa con cui voglio iniziare il video ovvero voglio cominciarla aprendo queste loot back che a volte capita che mi sbuchi qualcosa di carino zucchero ok ok quelle erano quelle bianche ok direi che il medaglione dello 1 per il momento me lo tengo per il semplice motivo di che non li tengo due ma solo uno per il semplice motivo di scienze cube che ora ne andremo ad aprire qualcuno all'interno del video sperando che non mi si distrugga tutto il mondo ok direi tranquillamente di questo è il tier 2 no ok allora quanto pare un po' di roba ci l'ha data qualcuno una parte utile e l'altra parte no tu ci dai brevemente nulla ok storage upgrade potrebbe essere utile ma non ora quindi allora direi tranquillamente ok ne ho fatti 32 si vede che ne avevo abbastanza arriviamo a 11 io volevo fare questo per compilare una missione ok e ottenere ok questi al momento non sono utili ma in futuro lo saranno allora direi di prendere quelli normale di prenderne quattro aspetta lo posso fare diamo in memoria che ho questo è il touch orta charm ah il tier 3 ho addirittura e quindi da 4 possiamo tranquillamente passare a 8 perché il tier 3 in teoria dovrebbe essere ancora migliore dal punto di vista positivistico del ok l'armatura ce l'ho ok dal punto di vista positivistico delle chance che possiamo ottenere ok sinceramente non so in cosa ci può uscire fuori spero non troppe cose negative qui era dove ho fatto spawnare l'altra volta è il il nostro amato amico bestiore mi ricordo mai il nome del boss ah jerry diciamo al punto di vista positivo si si mandato un gennaio slimeball gratis uh regola, mucca e maiale e 32 questo non è male esperienza esperienza ok ma non tu ma tu ma tu probabilmente ci ha dato due diamanti e uno stick arc e freccia semplice free no eh l'arco è buon rock a ripararlo direi di andare a prendere altri scienzi cube almeno finché non finché non si rompe il il pendant che a quanto pare lo posso trovare solamente all'interno del tier no nel lootback leggendaria allora allora non so cosa serve per il momento di poso oserei ehm aprirne uno dei giant sperando che esca qualcosa di discredo almeno pure da qui soprattutto che non mi faccia sparire il mondo poi presto troverò il modo di salire il quanto più rapido possibile che poi se ci sta qualche tipo di esplosione qui almeno il peggio può succedere per il mob spawner ma comunque dovrebbe essere leggermente più in alto rispetto a esotizzare un attimo ok e la cosa nulla ok praticamente nulla ok libri perfetto che c'è bookshelf che sono oh oh non ho capito sinceramente fornissi ah un uno là mi ha fatto pure ok tu sei l'oselot ottimo uh sharpness 10 un break in 10 uh quanti cavolo siete ok come ho detto non sempre capiranno cose positive ok ok anche con il tier 3 però questo rispetto a magari a qualche centinaia di esplosione è sicuramente meglio allora sicuramente sono cose da usare ok perlomeno posso le cose ciò mai i drop dei vari mob qui tutte le teste e roba varia oh pure nemo l'hanno dato ok e quindi penso possiamo andare avanti con la con l'apertura tu sei ovviamente vedo sarà tutta roba che metterò all'interno dell'inventario finché dura io ok altri 4 secondi 2 1 ok che è sinceramente è ottimo come cioè è perfetto come cosa almeno ottengo quel minimo di allora c'è quel minimo di materiali però ho bisogno di nuovo ok intanto c'ho di qua ok di qua ci metto solamente i vari materiali che trovo lo so dovrei mangiare ok questo non lo posso rompere non ancora manco quello devo trovare un manco un modo di upgradare il piccone in maniera fatta cioè fatta bene che ho scoperto per caso che ce ne sono certi molto molto belli di piccone però uno cosa oh molto è still che quello penso ok roba di redstone un secchietto no andiamo seppure diciamo che cose molto molto utili ultime ultimamente non me ne hanno date ok ancora un po' di vita per se sono ok ah il bio fu quella non so cosa mi servirà in futuro mi serviranno in futuro tutte queste stringhe non lo so però intanto le raccolgo voi molto probabilmente vedrete almeno nelle parti buie vedrete poco però però per il momento cacchio 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 il caduro il morten come un fesso ok qualcosa sto riuscendo a recuperare ok per il momento direi basta accogliere stringhe anche perché ne ho veramente veramente tante giusto se magari ne incontro qualcuna quella che mi rompe le scatole intanto sicuro devo mangiare ha preso le coordinate e la cosa non è che mi piace più di tanto tu sei tu sei ah ok è andato altri ok altri 2 tu chiedi fortuna fortuna 3 efficienze 10 non credo quanto possa essermi utile però allora cacchierola ok questi devo fare fuori tutti ok in un certo senso le stringhe hanno anzi hanno aiutato perché hanno bloccato praticamente gli enderman quindi meglio qui l'ho fatto bene non toglierle tutte allora intanto rimangio e vediamo tu ok fuoco 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 ok allora questo era l'ultimo quindi gli altri li aprirò in un secondo momento ah devo ancora prendere l'altra missione allora vediamo dove era eccola qua tu sei mystical fertilizer l'unico punto in cui voglio vedere se funziona è su l'essence lì fuori appunto nella speranza che funzioni no ok non credo eh che non ricordo male non funziona no sì funziona una grande quindi poi off camera prenderò tutto quello che che ho e lo utilizzerò infatti perché mi hanno in questo modo ne ho ottenuto veramente tantissimo in poco tempo e direi pure di cominciare a svularmi l'inventario allora di cose comunque non mi servono questo al momento non mi serve poi troverò il modo di utilizzarlo neanche il secchio neanche di neanche di ok allora cose di redstone no anche se comunque sto notando che ne sto ottenendo veramente veramente tante stringhe ok ti poso di là e comincio a svularle pure questa parte di qua qua tutto quasi tutto no ok ho preso un nuovo ok per il momento allora poserò tutto e quando sarà farò sfularle quegli animali ok ora intanto vediamo che cosa altro posso fare per l'emissione non te non te allora intanto mi viene venire qui a raccogliere proprio per questo motivo per farmarne il più possibile allora ok 29 sono riuscito a produrne e non è male vediamo di te solo 7 però fammi pensare come lo volevo fare però ok l'utilizzo era proprio questo allora sicuramente non non l'avevo comprata questa no a quanto pare no allora vediamo come come si crea stava non ricordo più ok allora sicuramente me ne serviranno parecchie allora ho messo il piccone eccolo perché cioè mi serviranno parecchie per un motivo semplice devo migliorare il la fornace quanto più possibile allora intanto per il momento utilizzerò questa per almeno la consumo ok penso che questa sarà al momento l'ultima fornace che potrò fare ah ma non mi ha accettato questa non mi ha accettato quella precedente no quindi dovrò rifarla per la mia gioia allora per fare questa ok manca semplicemente il un blocco ok e la prima l'abbiamo fatta ora devo fare la seconda che per lo stesso motivo manca un blocco ed infine quella attuale che non mi ha voluto segnare prendere come diciamo la non me l'ha proprio voluta prendere ok manca solo la su premium però ahimè non non posso ancora diciamo farmarla cioè farla allora volevo provare le due velocità questa era quella no al contrario volevo fare ok abbastanza veloce e te tu sei molto veloce ok perfetto devo riuscire a trovare ok però per fare quello ci vorrà ancora un bel po' di tempo il tempo crescono su le cose allora ecco qui servono ok quindi non è che sia tutta questa difficoltà riesco a farne giusto uno per la missione diciamo quanto pare al momento stiamo andando abbastanza abbastanza veloce con le missione ok vale pure per il lingotto ah ok perché mi manca ancora diciamo la devo decraftare però ok e missione fatta se me la prende ok quello volevo provare a fare era il tier 4 crafting che è questo che è questo ok ovviamente perché mi manca quello interno ce la farò ok e finalmente forse sì perfetto l'ultimo crafting seed e il resto se ne parlerà in per iniziare in un'essenza ma ce ne vorrà abbastanza prima di riuscire a ottenere un qualcosa di decente allora volevo provare intanto aprire le varie loot bag nella speranza di trovare qualcosa di decente ok la spada che ho e ne ho veramente tante di quelle allora questo certus quarts al momento poso poso tutto allora quindi devo fare generator vediamo se è added ecco il nostro generator che mi manca per magmatic ok no mi dico finora redson si ho finito redson ok penso che uno stack possa bastare ed infine questo è stato completato allora vediamo se anche l'ender generator riesco a farlo diciamo ultimamente è abbastanza rapida fabbricare le cose cioè per quanto riguarda parte questo questo è un dubbio di riuscirci che vediamo no un po' no in verità si ce l'ho ve lo ve lo ve lo allora allora ecco ecco l'altro generator questo no perché mi manca l'oro però non è un grossissimo problema perché ho dovuto farmare un po' di sabbia e quindi per il momento quel minimo d'oro ce l'ho e ho anche quel minimo di koal per farmare un po' cioè quel minimo di koal per farmare un minimo di energia e ok anche se servendomi solo il blocco lo posso fare pure di qua occhio ok altro generator completato e questo dubbio non ce n'è il dubbio però vediamo un po' ok manca solo la dnt e non ho sabbia allora 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 mi serve sicuro la cobblestone che metterò di qua mentre farò l'altra anzi mentre proprio apro le cose in barhammer in teleposo c'è il sistema le cose c'è gli altri generator che non mi servono e direi quello lasciarlo in secondo piano per fare no ne è di star sicuro ne avevo una però controllo ce l'ho sperando che ne serve soltanto una di si a quanto pare si allora praticamente sto finendo tutta una pagina di missioni molto molto veloce velocemente questo no non ho le cose il materiale adatto vediamo se per te va la stessa cosa no dubito ok allora visto sono da noi le parti che mancano stanno cominciando ad essere tante per finire la parte del generatore e comunque da 1 2 3 4 avevi una botta solo ho fatti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 e la cosa non mi dispiace mi sia l'agricoltura praticamente quasi fatta questo devo capire il modo di farmarlo dip dark lo sto sempre facendo da questa parte qui anzi direi di avere il mio bellissimo stack di quadrople e per il momento mi metto a farmare un po' di legna e c'è un po' di legna di carbone e direi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se è così è stato mi raccomando di mettermi un mi piace di iscrivervi al canale di seguirmi su Twitter Instagram Facebook comunque voi vi saluto ciao a tutti voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.